è partita la quarta serie dei metri 1.500 in campo maschile transito torna ai 29 alto per il battistrada in questa sia numero 4 l'atleta col metro alle 16 Stefano Pedrana tanti allievi in questa gara tutti allievi tranne Pedrana che è Jungio e Mario Tagliaperri che è segnato al primo anno gli altri sono Francesco Rainieri Francesco Ropelato Stefano Benzoni Nicola Morosini Tommaso Losma Giovanni Cremaschini e Lorenzo Caffarelli siamo vicini al passaggio transito ai 500 1.18 transito ai 500 metri per una proiezione quindi dotevole da 354 355 per una serie per una serie molto plasonata seconda posizione con 125 viviamo Tommaso Losma per una serie molto plasonata vai Francesco c'è anche Francesco Ropelato la garcia transigrana che si distingue alle spalle di battistrada per la sonda i 2.10 transito agli 800 metri tra poco vi daremo il passaggio ai 1000 Tommaso Losma pronto da vicendarsi al comando 2.39 il passaggio ai 1000 vediamo che si è un po' rallentato mentre risale molto bene Benzoni in seconda posizione Francesco Ropelato in terza noi è stato campionato abbiamo cadetti e avievi cross un grande specialista nella corsa sui Prati taglia per in terza in quarta posizione perdone in proposito di corsi sui Prati che sono Benzoni e anche di qua la Bologini sono ottimi interpreti delle gala di fuori agli stadi che qua cercano però ottimi risultati anche in pista Tommaso Losma al comando per la futica balla con Embana che avrà anche appuntamenti con la corsa in montagna nel prossimo nel futuro a brevissimo termine a partire dai campionati italiani individuali prima prova domenica prossima di corsa in montagna delle staffette di Lanzato del 5-6 giugno siamo con Losma con Benzoni di inseguirlo Tagliaferri in terza posizione con Maso Losma per correre molto forte per demolire il 4-0-3-78 del primato personale 4-0-0-58 se non leggo male per migliorare il proprio limite e tra i risultati ufficiali della terza serie non